Alcuni elementi della proposta del Presidente della Commissione europea ci fanno ben sperare. I trasferimenti a fondo perduto nel complesso sono superiori ai prestiti e presente l'emissione di titoli di Stato europei a lunga scadenza. Ci sono le risorse proprie dell'Unione che non colpiranno le tasche dei cittadini ma i privilegi di poche multinazionali e di chi inquina. Si accelera infine per una transizione verde digitale ma ora inizia la sfida più grande. Vedremo come andrà la partita in consiglio dove alcuni paesi proveranno a ridimensionare qualsiasi speranza di solidarietà europea. Questi paesi non vanno più definiti come frugali ma egoisti. L'Italia è pronta per questo appuntamento. Oggi il Presidente Conte ha annunciato un piano strategico che guarda al futuro a partire dal rilancio degli investimenti. Per fare questo il Movimento 5 Stelle si aspetta un aiuto forte dall'Europa e il Recovery Fund ci auguriamo serva proprio a questo. Per decenni l'Europa si è rifiutata di cambiare il suo modo di agire. Spiace che solo una catastrofe come quella che stiamo vivendo abbia fatto emergere quello che realmente conta, lo spirito di solidarietà europea. Stiamo scrivendo una pagina di storia? Forse sì, speriamo sia una vera svolta per i cittadini di questa vecchia ma resiliente Europa. Così l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Isabella Di Nolfi durante il suo intervento al Parlamento europeo.